Eccola la prima panchina europea in Irpinia. È stata benedetta e inaugurata a Carpignano davanti all'ingresso del santuario dedicato alla Madonna Nera, alla presenza dei padri mercedari e del sindaco Angelo Cubino. Oggi più che mai abbiamo bisogno dei valori dell'Europa, che sono anche valori che aiutano a rafforzare la nostra identità nazionale, perché tante identità nazionali fanno una grande comunità europea e mondiale. Un'iniziativa che ha lo scopo di rinsaldare il legame tra l'Italia, in questo caso Grotta Minarda, e la comunità europea. Noi siamo cittadini grottesi ma anche cittadini europei e dobbiamo sentirci tale, soprattutto in una fase in cui di crisi globale l'Europa è stata vicina ai suoi cittadini anche nelle più lontane periferie. Si pensi a questa comunità rispetto ad altre città in cui è stata finanziata l'opera, penso a Milano, penso a Genova, una serie di città del nord Italia, tutti i capologhi di provincia. E noi oggi siamo qui a Grotta Minarda, nel caso di specie a Carpignano, questo dimostra anche la nostra capacità di fare rete in un sistema nazionale ed europeo. E' importante riscoprire il senso di essere europei, un'Unione europea che sta aiutando parecchi cittadini in questo periodo, con i fondi dell'Election e dell'Election New. E questa panchina europea che è un simbolo, e siamo contenti che sia giunto perfino a Grotta Minarda da un atto vandalico successo alla panchina europea di Lecco, è un importante simbolo di una comunità forte che si sente europea, che ha voglia di iniziare insieme un percorso che ci indirizzi verso un futuro migliore.